Un cordometraggio per ricordare chi per primo diede la vita per altri. Un filmato perché 24 nomi, 24 persone, 24 storie non andassero perdute e con loro un monito, mai più. Il nome degli eroi nasce proprio da qui, dalla volontà di ricordare quei 24 pompieri giunti tra i primi sul luogo della catastrofe di Chernobyl, 30 anni fa. Non sono nuovi ed esperienze come questa, Carlo Saletti, regista teatrale, storico, e Roberto Solieri che con l'associazione Crea di Custosa portano avanti un'importante opera di memoria di pezzi della nostra storia. Se non fosse per i ragazzini che arrivano qui con le varie associazioni, noi Chernobyl l'avremmo proprio rimosso. Sì, l'Europa ha rimosso Chernobyl, assolutamente, il più grande disastro non solo del nucleare del Novecento che ha rischiato di mandare a rotoli l'Europa, una buona parte d'Europa, che ha mandato a rotoli una parte molto consistente dell'attuale territorio bielorussio e che l'ha reso inabitabile per i prossimi 10.000 anni. E questo è successo anche in Ucraina e questo è stato Chernobyl. Come nasce un filmato come questo? Ma nasce dall'idea che questa catastrofe, che poteva degenerare, secondo alcuni fisici, in un'esplosione nucleare di dimensioni catastrofiche, che avrebbe liberamente reso disabitabile una parte d'Europa, è stata in parte scongiurata dall'intervento di persone, giovani, che dapprima per spegnere l'incendio, poi per cercare di domare questo magma radioattivo che continuava a bruciare, che non voleva sapere di spegnersi e si sono esposti a rischi spesso mortali. Quindi queste persone vanno ricordate e noi abbiamo girato un cortometraggio per ricordare i loro nomi. Per ricordare il disastro nucleare di Chernobyl di 30 anni fa, la CREA ha coinvolto anche due associazioni che ogni anno ospitano i bambini provenienti dalle zone contaminate per vacanze di risanamento e con loro promosso tutta una serie di iniziative che, a partire dalla data del 26 aprile, ripercorrono le vicende legate all'incidente e alle sue ripercussioni. Da storico possiamo dire che la storia insegna, ma noi facciamo fatica ad imparare. Ma io penso, sono d'accordo, sì, la storia è una buona maestra e siamo noi forse i cattivi allievi. Da questo punto di vista quanto è importante oggi usare l'arte, usare strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione per arrivare anche là dove difficilmente si può arrivare, quindi ad un pubblico più generale possibile. Credo che sia l'unica mossa possibile, cercare di raccontare quello che è successo. Dunque nell'86 una buona parte della popolazione italiana, per quanto sia invecchiata, non era nata e quindi non ricordano il nome Chernobyl, appunto, non ti dice niente. Non dice niente, è il titolo della rassegna che noi abbiamo immaginato e ti ricordi di Chernobyl. E non è una domanda provocatoria, ma sappiamo che la maggior parte delle persone dirà no a Chernobyl.